Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Eghito86, grazie per la visualizzazione, spero che questo video vi piaccia come tutti gli altri, vi invito a lasciare un like, un commento e a condividere il video se vi è piaciuto e se vi fa piacere. La voce che sentirete è quella di Fabrizio Puccini, grandissimo doppiatore, che ha doppiato attori famosissimi come Hugh Jackman, ovvero Wolverine, ha doppiato anche Russell Crowe, Brandon Fraser e anche in tantissime altre serie tv ha fatto moltissime cose, film d'animazione, ma lo scoprirete con questa intervista. Vai con le domande. Beh, sarebbe anche troppo scontato dire Wolverine, è chiaro che mi diverto come un matto quando faccio Wolverine, ma invece in realtà quello che mi è piaciuto di più è stato quell'altro film con Meg Ryan, e quello è il film che di lui mi è piaciuto di più fare, però poi chiaramente anche Wolverine ha un suo perché. E stiamo per partire con un altro, tra l'altro. Sì, beh, lì anche lui un po' dappertutto, lui ha fatto parecchi film anche comici, ultimamente non sta benissimo, so che ha problemi di credito, di alcol, perché si è ingrassato in una maniera pazzesca, però è un attore molto divertente, anche lui da doppiare, sì. In realtà non c'è una vera e propria preferenza, è chiaro che doppiare attori molto importanti, grossi film, però è vero anche che sui cartoni metti qualcosa di un po' più tuo, un film che mi è piaciuto molto, mi sono molto divertito a fare, è stato Il Libro della Giungla, dove facevo Balù, e lì mi sono divertito tanto anche perché tanto cantavo, che è una cosa che amo molto. E poi perché il primo film era doppiato, Balù era doppiato da Locchi, che è un grande doppiatore del passato, che io ho sempre stimato tantissimo, quindi puoi immaginare in qualche modo come questa sorta di, con grande rispetto per Pino, di passaggio di consegne, mi abbia reso colmo d'orgoglio. I tuoi recenti so che hai fatto Le Cinque Leggende. Sì, anche perché c'era il Jackman che doppiato. Sì, infatti questa cosa, cioè che appena ho sentito la tua voce, ho detto che questo Pino originale è sicuramente il Jackman. Sì, infatti. Non so se sai come funzionano il doppiaggio del videogame, non vedi niente, vedi soltanto il file, tu doppi sul file, sulla lunghezza del file, e senti soltanto il doppiatore americano. Quindi mi sono basato sulla voce del doppiatore americano e ho fatto quello che faceva lui. Poi, penso, non l'ho mai neanche visto, quindi non ho neanche la più pallida idea di che faccia abbia quello che ho doppiato. Ma comunque è venuto un buon lavoro. Grazie. Mi ha detto il mio fonico abituare, che invece è un grande appassionato di questo genere di videogiochi, per cui invece subito mi ha detto, non ho visto, non l'hai doppiato, poi non l'ho scatenato, ho stato sempre attaccato alla Playstation. Un pazzo. Sì, quello è stato una delle tante condivisioni con lui e io e Luca spesso ci intercambiamo su attori, su... Illuminaci un po' sul perché a volte nei trailer si sente la voce di un doppiatore e poi nel film è un altro doppiatore a doppiare quel personaggio, come è capitato per esempio in Noah, nell'ultimo, che nel trailer si sente la voce di Luca Ward e invece poi si sente a doppiare Russell Crowe, così come è successo anche in altri film. Guarda, ti dico, i trailer si fanno in genere diverso tempo prima che esca il film. Spesso non è neanche il direttore che fa il trailer, che poi farà il film. Quindi si va un po' per chi è pronto, per chi è disponibile quel giorno magari. Quindi c'era Luca e Luca ha fatto il trailer. Poi questa cosa dei trailer è abbastanza bislacca tra me e Luca, soprattutto su Russell Crowe, perché è sempre successo, o quasi sempre, che chi ha doppiato il trailer poi non ha fatto il film e viceversa. Per esempio il trailer del gladiatore l'avevo fatto io e poi invece il film l'ha fatto lui. Il trailer di A Beautiful Mind l'ha fatto lui, poi io ho fatto il film. Robin Hood fece lui il trailer, io fece il film. Master e Commander, io feci il trailer e lui fece il film. Insomma, adesso se mi chiedono di doppiare il trailer di Russell Crowe gli dico di no. Guarda, il film non era male. Io che sono un nerd un po' da questo punto di vista, infatti non è casuale che diriga tutte le serie televisive della Marvel. Spawn lo conoscevo chiaramente per i fumetti. Il film era fatto molto bene, ma non era tanto aderente al personaggio dei fumetti, mentre per esempio il cartone, ho doppiato anche quello, lo era molto di più. Quindi probabilmente per questo Spawn non è andato molto bene come prodotto cinematografico. Forse i film sui superiore e così vanno molto, quindi i vari quelli lì era... Cioè se usciva adesso magari avreva molto più successo forse probabilmente. Sì, sicuramente, sicuramente. Ed ho detto, allora lo videro veramente soltanto i nerd come me, ma non ha avuto quel successo di cassetta che si pensava. Ora, è stato molto casuale perché io chiaramente vengo dall'accademia di recitazione, ho cominciato col teatro, solo che in quegli anni ero molto giovane, quindi mantenersi era un po' complicato, un po' facevo. Quando non lavoravo in teatro facevo il cameriere in un pub, vendevo enciclopedie mediche, insomma hanno fatto un po' di tutti i colori. E ogni tanto facevo anche un po' di radio, ho fatto radio anch'io, voi e Dio, che erano delle trasmissioni di quegli anni. E in una di queste ho incontrato, ho conosciuto Silvia Monelli, che era una direttrice di doppiaggio già affermata. e lei mi disse tu c'hai una bella voce, sei bravo, ma perché non fai un po' di doppiaggio, ti posso chiamare? Ho detto per la miseria, certo che sì. E quindi lei mi ha cominciato a chiamare, a fare delle piccole cose in doppiaggio e quindi alternavo un pochetto perché il doppiaggio allora era molto remunerativo. Quindi quando non facevo teatro facevo doppiaggio, quando non facevo doppiaggio facevo teatro. Insomma, era un po' come dire, c'era un'alternanza tra queste due cose. Poi verso i 30 anni ho cominciato a soffrire un po' di più il fatto di essere sempre fuori casa, di passare 8 mesi, 9 mesi in giro per l'Italia, per le tournée e tra l'altro i guadagni con il teatro si assottigliavano sempre più tanto che ormai oggi come oggi non so proprio devi essere ricco di famiglia per fare teatro e viverci. Per cui ho cominciato a dirare un po' di più sul doppiaggio, mi ci sono trovato insomma, alla fine funzionava. vi consiglio di seguire Dieguito86 perché io perdo facilmente la pazienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!